Ad Acireale stasera torna a riunirsi il Consiglio Comunale per discutere nuovamente della convenzione tra Comune e IACP sugli alloggi popolari del quartiere San Cosmo. Da due giorni si susseguono riunioni per entrare nel merito della vicenda e la stessa seduta consigliata di questa sera sarà preceduta da una conferenza dei capigruppo. La convenzione, qualora venisse approvata, certificherà il diritto di superficie dello IACP sull'area dove sorgono gli alloggi risalenti agli anni Ottanta, anche se va detto che la stessa convenzione andrà poi ratificata dallo stesso Istituto Autonomo Case Popolari di Acireale. Sul testo della proposta di delibera, l'amministrazione comunale è pronta a proporre due emendamenti.